Ciao a tutti Ok ok No no attenti voglio schiacciare Aspettate No Non è stata colpa mia Perdona mi perdona Mi è stata colpa di Andrea Che mi ha spinto Oh pure le macchine parcheggiate qui Andiamo andiamo Belli veloci Che spettacoli Far puriti di sniffer Andiamo andiamo Ovviamente lo ringrazio Perché mi tagga sempre Allora Ehi ehi Che è successo là Nella Descrizione Royal Ghost Sei molto gentile Guarda tanto è bella questa macchina Stupenda Vuoi trollare ancora sui Guardalo Aggressivo eh Oh basta Basta sui Aggressivo Sui Vattene via Basta trollare Oh no Vado al bravo eh Allora Eh sui Non ho fatto niente Va tutto da solo eh Stavo dicendo Nella descrizione Ho letto che Per 11 giocatori Per 10 giocatori Va bene il contatto Dopo i 10 giocatori no Siamo in 11 Non va bene Che è quello Ah cos'è Ok Allora cosa abbiamo Un bel wall raid Sì sì eh Ok ok Belli concentrati Io vado qui Oh no No sui Su Dimmi di sì Dimmi di sì Sì rega Allora andiamo Andiamo Cosa abbiamo qua rega Farina 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 No Non fa Contrappeso Vero No Oddio Dall'altra parte Sì eh Da questa parte Del pezzo Quasi nessuna macchina Fa il contrapeso Forse la flash GT Allora Belli concentrati Dai Ok Queste parti qua Trollano sempre Meglio andare piano così Infatti Perché dobbiamo Una 2000 Ok Ci siamo Ci siamo Allora Cosa abbiamo Un saltellino Troppo bello l'inizio Con tutte quelle signorine Là Cime Swift M2 M3 Di che stanno a parlare Rega Non lo so Ok Facciamo attenzione E ci siamo Ci siamo Allora Devo alzare leggermente Il volume Ok 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 Poi rega Tra poco arriva pure Il mio Parkouritos Lo faccio Tranquillo Non vi preoccupate Non come level asian Che è hard Ok Qua abbiamo Un wall Raid Forse dobbiamo Passare lì Vediamo Si è triplicato Sì Ok Tipo qui Ah poi devo andare qui Sì Ok Ok Ha messo 70.000 frecce Allora E ci siamo Bella con le ruote arancioni Comunque Distrutta No No Aiuto Cosa abbiamo Qui Oh Oh rega Eh non lo so 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 E invece si Ok Allora Tutte le vie saranno uguali No miseria Rega Troppo belle Queste vie Così eh Nemmeno il muro Direttamente Esplosione Rega Ok No paleolica Che va a 2.000 Rega A 2.000 Quindi dobbiamo andare a 2.000 2.000 Sì 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 Zitto Zitto Aiuto 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 Qua non c'è niente Oh rega Qua metodo furbetto Andiamo piano Sgombiamo pure Rega Perché ripasso più Da quella paleolica Ok Ok Delicati Perfetto Perfetto Direzione sbagliata Magari 7 levi No Non è finita C'ho tutte e due le paleoliche Che vanno veloci Rega Ma che sfortuna E mo Su guai Allora Mettiamoci qua Oddio Una che vada così veloce Così 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 Perfetto Perfetto Porchita lì è esploso Come ha fatto esplode Dove Ah di qua Non so perché ha messo questo qui Per saltare Rega Non lo so Andiamo andiamo Proseguiamo per il bel parkurito Mi pare che c'era scritto Che andava dai 10 Ai 18 minuti No Forse ci siamo uguale Sì sì Perfetto Perfetto Olè Aiuto Porchita lì è esploso di nuovo Ma come è possibile Ah la via troll Aspettate No vedo Ok Stipe è esploso Eh no Zitti zitti Ho fatto la migliore cosa Rega Ok ci siamo Ci siamo Allora C'è un'attenzione È finita Rega Eh no Ce n'è un'altra parte Così Oh aiuto Aiuto Da questa parte stavolta Siamo quasi a 5 minuti di Parkurito Rega Ok Qui sale un po' dell'ansia Perché Era l'ultima parte Oh legisimo Un bel drift per entrare al meglio Mamma mia che spettacolo E qui No Eh rega Non posso nemmeno frenare Perché È vietato Eh Aspettate Allora Dentro questi tubi È sempre complicato Stare tritti O capire la velocità Sempre Sempre Complicato Che è successo Bella caposoi Mi saluti Bella nomad Rega speriamo Niente O quanti ce ne sono Oddio Potevo mettere tutti i pezzi Nel nightclub Ho visto giù che ci stanno I pezzi del nightclub Rega Qua mi recuperano Come posso fare Sì 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 Ci va bene Ci va bene Però Che teoricamente L'albero ci dovrebbe dare una mano Però Forse ne doveva mettere due Era meglio Sì Ci siamo Ok Ok Qua dovrebbe essere Easy Perfetto Così Ah e dopo è finito Finito Ok Zitti 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 Mamma mia Se cascavo qua Rega Allora No no Io non vado al massimo Mi dispiace GTA però Ma a parte che prendevo il check subito Avete visto E qui Eh no Mi sa che vuole Raid Ah no no Si può passare Perfetto Andiamo Sei minuti Di parkour Rega Olle olle Belli veloci E qui Così Perfetto Andiamo Andiamo Dobbiamo Dobbiamo fuggire Vediamo un attimo Check 17 su 19 Quasi finito Questo è il diciottesimo Alla c'è il traguardo Wow Wow No Ma come fa a fare il flip Perché è tutto invisibile Guardate Non c'è nessuna guida C'è a parte questa Ah no no C'è un pezzettino L'ha reso invisibile lui Allora Qua cosa abbiamo Qui abbiamo i chiodi Però sono quelli facili Perché è larghissimo Oh No la tenuta ce l'ha Non mi lamento Un tubo Che dobbiamo fare nel tubo Scendiamo Ah C'è il check qui Ok Ok Dai prendi sto check Dai prendi Oh Sono quei check che se non ti avvicini Cioè se non ci passi dentro Non te lo prende il check Quindi dobbiamo andare per di qua Poi sopra Dove siamo andati noi Sì sopra Perché quel wallride Non l'ho visto prima Cioè non ci siamo andati Su questo wallride qui Sempre delicati Delicati Poi dobbiamo salire Dopodiché Ah Ah no no Aspettate Facciamo un altro giretto Per sicurezza Olè 8 minuti regà Tempo veramente carino Andiamoci a prendere questa bella Primera che non so dove sta Eccola Comunque sia Se vi è piaciuto il parkurito di Sniffer Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci becchiamo al prossimo video Bella Musica Grazie a tutti.